Il Consiglio regionale Il Consiglio regionale respinge la mozione per la revoca dell'incarico della regione all'Ivero Toscani, presentata da Diego Petrucci per le affermazioni rilasciate su Giorgio Amelone e gli elettori dopo il voto del 25 settembre. Il Consiglio regionale Noi avevamo fatto una proposta di avvicinare chi gestisce il trasporto pubblico con chi si occupa di sicurezza nella nostra regione. In questo caso sia le forze di polizia provinciale che le guardie giurate alla condizione che viaggiassero in divisa. Purtroppo oggi il PD ha confermato questa incapacità di cogliere le idee a costo zero perché il PD purtroppo è capace solamente a spendere e a bruciare risorse pubbliche e ha portato un emendamento che a parer nostro era irricevibile. Mentre noi dicevamo che la regione toscana che è l'organo competente alla gestione del trasporto pubblico doveva organizzare un tavolo per mettere d'accordo il gestore con chi fa sicurezza in Italia e a costo zero farli viaggiare gratuitamente per essere come detenzione nel trasporto pubblico. Il PD ha fatto un emendamento perché ora è una classica mossa quella di impegnare il governo a inserire delle nuove risorse quindi a spendere nuovi soldi per una cosa che secondo noi invece poteva essere totalmente gratuita. La regione toscana fin dal 1998, legge 42 del 31 luglio 98 ha dato vita ad una convenzione con le forze dell'ordine tra le principali, la polizia di stato, l'arma dei carabinieri, la polizia penitenziaria ad esempio della possibilità di viaggiare gratuitamente sui nostri mezzi di trasporto pubblico a livello regionale, siano essi su gomma o su ferro, al fine di garantire con la loro presenza una maggiore sicurezza per gli utenti, per i passeggeri e al tempo stesso anche per i personaggi di bordo. Noi rispetto a questa mozione abbiamo presentato una serie di emendamenti e in narrativa sostitutivi o soppressivi e nell'impegnativa che il collega Veneri ha dichiarato anche in aula accettare per il 99% salvo le ultime due righe con le quali noi chiedevamo di attivarsi nei confronti del governo perché si desse vita ad un fondo nazionale che consentisse alle regioni di poter ristorare questi mancati introiti ai diversi gestori. Questa è una cosa che ci sta molto molto a cuore e proprio per questo ho annunciato in aula che presenteremo una mozione nostra come gruppo del Partito Democratico e di maggioranza che governa la regione toscana affinché si riprendano quegli emendamenti presentati e ripeto per il 99% accettati dal proponente collega Veneri ma comprensivo anche della richiesta legittima, non fuori luogo, di chiedere al governo di impegnarsi nei confronti delle regioni che hanno questo genere di convenzioni. È importante che ci sia una misura del governo insieme a una misura regionale che consenta alle forze dell'ordine di viaggiare nei mezzi pubblici senza dover pagare il prezzo del trasporto nel momento in cui si recano al lavoro. È un elemento positivo. Credo che si possa arrivare ad un elemento di convergenza nelle prossime settimane se anche da livello nazionale si possa sostenere questa che è una misura che a nostro avviso è positiva. Indubbiamente il tema della sicurezza sui mezzi pubblici di trasporto è un tema centrale. È un tema che oggi vede coinvolti cittadini, molto spesso donne, persone deboli che si ritrovano in situazioni anche di evidente pericolo. Quello che chiedeva la mozione era di favorire in qualche modo e di dissuadere anzi attraverso la presenza di personale indivisa sostanzialmente appartenenti anche agli istituti di vigilanza che in qualche maniera fossero come dire da dissuasore di certi tipi di comportamenti. Personalmente credo che ad esempio la presenza anche delle forze armate che possano viaggiare gratuitamente anche sui treni è un segnale anche di attenzione a chi molto spesso appunto porta la divisa e chi spende anche la propria vita proprio per sostenere questo tipo di situazioni. Così non è stato, non c'è stato un approccio costruttivo. Si fa una questione di costi quando invece oggi la questione della sicurezza deve essere al centro anche dell'azione politica. Quindi ecco anche in questo caso riteniamo un'occasione persa e soprattutto un mancato segnale a cittadini dell'attenzione, ripeto, su un tema che oggi invece è fondamentale. Garantire la sicurezza degli utenti su autobus e treni. Questo per noi è fondamentale e evidentemente per la maggioranza non lo è. Era una proposta di buon senso quella di dare la possibilità agli appartenenti delle forze dell'ordine di usufruire dei mezzi pubblici gratuiti. Naturalmente quando sono in divisa per andare o uscire dal lavoro. Lo fanno già molte regioni, lo fa la regione Lombardia, lo fa la regione Abruzzo, lo fa la regione Campania, lo fa la regione Sicilia. Oggi abbiamo scoperto che il Partito Democratico è contro le forze dell'ordine. Era di buon senso per una serie di motivi. Il primo fra l'altro per garantire la sicurezza sui mezzi di trasporto, sui treni, sugli autobus, sul trasporto di linea, sul TPL pubblico per i cittadini che montano sull'autobus e che molte volte si trovano stagio di borseggiatori, magari di piccola delinquenza, di piccola criminalità. Avere la presenza delle forze dell'ordine indivisa sul trasporto pubblico è un deterrente per chi vuole delinquere. Guardate, ci è stato detto che non lo possiamo fare perché costa, a prescindere dal fatto che la sicurezza per il centro-destra e per Forza Italia non è mai un costo. Ma è una cosa che noi dobbiamo garantire ai nostri cittadini. E l'elemento che abbiamo detto è, ma se è un costo, recuperate l'evasione dai biglietti. Noi abbiamo il 24% di persone che salgono su un treno, che salgono su un pulma, che salgono sul trasporto pubblico che non pagano il biglietto. Basterebbe recuperare quella schifra lì per garantire di viaggiare gratis agli appartenenti delle forze dell'ordine e di far viaggiare sicuri i cittadini che scelgono il trasporto pubblico. Il Consiglio regionale ha respinto a maggioranza una mozione presentata dal consigliere di Fratelli d'Italia Diego Petrucci in merito alla richiesta di revoca dell'incarico ad Oliviero Toscani, a seguita alle dichiarazioni rese sull'esito degli ultimi risultati elettorali. Contrale alla mozione, i consiglieri del Partito Democratico hanno votato a favore tutti i gruppi di opposizione e il capogruppo di Italia Viva Stefano Scaramelli. Gli italiani che hanno votato Giorgia Meloni sono deficienti per me. Queste sono le parole con cui Oliviero Toscani ha commentato le elezioni politiche del 25 settembre. Gravi in assoluto, gravi a maggior ragione nel momento in cui Oliviero Toscani è stato incaricato alla regione toscana di fare una campagna alla Toscana di Toscani all'interno di Benvenute in Toscana per attrarre il pubblico femminile nella nostra regione. Evidentemente le due cose stridano, evidentemente questa cosa è gravissima per cui oggi come Fratelli d'Italia abbiamo presentato una mozione in Consiglio regionale chiedendo intanto di condannare le gravi esternazioni a livello Toscani e poi di revocargli l'incarico profumatamente pagato per fare questa campagna pubblicitaria. Anche perché ci chiediamo, le donne che Toscani vorrebbe attrarre in Toscana sono tutte escluso quelle evidentemente che hanno votato Giorgia Meloni perché se sono, come lui ritiene, deficienti è evidente che la cosa non sta insieme. A noi abbiamo chiesto che il Consiglio regionale prendesse una posizione chiara su questo come hanno fatto i Benetton quando Oliviero Toscani si espresse in maniera orribile sul crollo del Ponte Morandi, cosa fece? Lo licenziarono. Noi chiediamo, abbiamo chiesto che la regione toscana facesse la stessa cosa ovvero revocasse l'incarico dato a Oliviero Toscani perché è una cosa gravissima quello che ha detto è una cosa ancora più grave perché lo dice contro una donna e contro le donne è una cosa tre volte grave perché il suo messaggio, la sua campagna dovrebbe proprio attrarre le donne in Toscana. Noi abbiamo trovato quell'atto, un atto condizionato da un pregiudizio che è quello, il pregiudizio nei confronti di Oliviero Toscani che come tutte le persone di questo mondo ovviamente può esprimere le proprie valutazioni. Noi tra l'altro a fronte dell'atto abbiamo proposto proprio per, come dire, sgombrare il campo dal rischio che fosse davvero interpretabile come un pregiudizio a priori nei confronti di Toscani di separare le due parti, cioè noi eravamo assolutamente disponibili a esprimere ferma condanna rispetto alle dichiarazioni di Toscani nei confronti della Presidente Meloni, ci mancherebbe altro. Sul tema della revoca dell'incarico ci è sembrato ovviamente appunto un atto strumentale. Noi eravamo pienamente disponibili, questa proposta è stata rifiutata. Riteniamo che ovviamente su questi temi si debba sempre cercare di trovare il più ampio consenso e soprattutto la più ampia convergenza e noi avevamo dato piena disponibilità finché si arrivasse a questo obiettivo. Probabilmente dovrebbe da dire, un osservatore esterno dovrebbe dire che la finalità magari dell'atto era un'altra e quindi su questo l'indisponibilità di chi ha presentato l'atto è stata totale. Io ho votato a favore perché ritengo che sia indecoroso quello che è stato detto e quindi la Regione Toscana deve prendere un provvedimento perché il rispetto nei confronti delle persone, in primis di una donna, deve essere da parte di tutti e soprattutto quando si ha un incarico a livello regionale e questo è molto grave quanto è successo. C'è un'offesa nei confronti anche dei cittadini che sono degli elettori non possono essere denominati così come sono stati considerati in quella definizione e come tale la mia posizione è stata in coerenza con tutte quelle che abbiamo espresso come Consiglio regionale nel prendere le distanze da queste dichiarazioni è un metodo che deve essere lontano dalla cultura dei principi della Regione Toscana. Giustamente il Partito Democratico si indigna quando vengono offese dalle esponenti del suo partito o di altri partiti a loro vicini se vengono insultati non si capisce perché questo debba essere accettato quando essere insultate o vilipese sono le esponenti donne ma io metto anche uomini di altri partiti politici specialmente se sono rivolti dall'altra parte dell'arco parlamentare ma chiunque essi siano. Noi riteniamo invece che la difesa dell'immagine della dignità delle persone, donne e uomini, lo ribadisco, debba essere assolutamente trasversale e che la Regione debba dare il buon esempio e non utilizzare come testimonio o comunque sia dare degli incarichi a delle persone che legittimamente come personaggi pubblici esprimono la loro opinione che però non può essere condivisa e non ci deve essere accostamento come la Regione Toscana. Pensiamo soltanto che il messaggio, il progetto per cui Liviero Toscani è stato incaricato sarebbe quello di dare il benvenuto alle donne che visitano la Toscana e il benvenuto viene dato da una persona che però non ha nessun problema invece a insultare un esponente politico e dico questo con una visione completamente diversa da quella che ha l'onorevole Meloni ma riconoscendo a tutte le donne, a tutte le persone, a ogni essere umano la dignità di non essere insultato sull'aspetto personale ma di riuscire a partare lo scontro sul livello politico. Dubbiamente una mozione che ho condiviso soprattutto perché il dottor Toscani non è estraneo e ha delle esternazioni assolutamente pesanti e inopportune. Questa volta queste sue esternazioni non solo si sono connotate in modo estremamente forte nei confronti della leader di Fratelli d'Italia e quindi connotate di un certo sessismo ma ricordiamo anche le affermazioni gravi su quanto accaduto sul ponte Morandi. Ecco noi riteniamo che questa figura non possa essere collegata alla regione toscana e tantomeno avere incarichi retribuiti. Si parla di 35 mila euro per una campagna che tra l'altro avrebbe dovuto promuovere le figure femminili bentornate in Toscana. Ecco francamente ci sembra alquanto inopportuno non revocare l'incarico alla luce appunto di dichiarazioni che sono assolutamente pesanti e che certamente non sono condivisibili ma che ci aspettavamo fossero stigmatizzate e condannate anche dalla maggioranza. Così non è stato ed è stato invece un pessimo segnale anche di sostegno a tutte quelle donne che si impegnano in politica e che quindi insomma ci richiamano un po' al voler dire pari opportunità a parole ma quando poi si passano i fatti ecco tutto quanto cade nel vuoto. Un po' di tempo fa su un'intervista di un giorno a Pecora continua a offendere i politici italiani, gli elettori italiani ma soprattutto ad essere un sessista, un maschilista, ad usare toni, modi e parole nei confronti di una donna, di Giorgia Meloni che è un leader che veramente sono orripilanti. La usate nei confronti di Silvio Berlusconi nel tempo e le ha ribadite, la usate nei confronti di Giorgia Meloni, la usate nei confronti di Enrico Letta, la usate nei confronti degli elettori che scelgono di andare a votare in un momento in cui l'affluenza è sempre in calo e noi facciamo uno sforzo dicendo agli elettori andate a votare. Ecco troviamo un naif che si permette di offendere tutti e tutti andando in televisione. Credo che abbiano fatto bene Benetton nel 2010, nel 2020 a mandarlo via quando ha usato quelle frasi, credo che abbia sbagliato il presidente della regione toscana, ad affidare un incarico a una persona che usa quei termini, quei modi nei confronti degli elettori e nei confronti della politica. Abbiamo chiesto di revocare quell'incarico che costa 30.000 euro alla regione toscana, magari con quei 30.000 euro noi potevamo fare altre cose. Il Partito Democratico ha scelto di tenere, Olivero Toscani, di dare una consulenza a una persona che si permette di offendere le donne e gli uomini, coloro che fanno politica, coloro che vanno a votare. Noi crediamo che non sia giusto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.